Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, ora non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, rese impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli, infatti, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi, però, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dei morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dei morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito, che abita in voi. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Del Signore la terra è quanto contiene, il mondo con i Suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio a sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù, il fatto di quei Galilei, il cui sangue, Pilato, aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico Ma se non vi convertite Perirete tutti allo stesso modo O quelle diciotto persone Sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise Credete che fossero più colpevoli Di tutti gli abitanti di Gerusalemme No, io vi dico Ma se non vi convertite Perirete tutti allo stesso modo Diceva anche questa parabola Un tale Aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna E venne a cercarvi frutti Ma non ne trovò Allora disse il vignaiolo Ecco Sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero Ma non ne trovo Taglialo dunque Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose Padrone Lascialo ancora quest'anno Finché li avrò zappato attorno E avrò messo i concime Vedremo se porterà frutti per l'avvenire Se no Lo taglierai